Antonietta Bottini, buonasera. Se l'altra voghera a sinistra e il Partito Democratico, ovvero le due forze della sinistra locale, si fossero unite, i risultati non sarebbero stati migliori? Non lo considero di sinistra. Loro non si considerano di sinistra. Non hanno programmi contenuti, obiettivi che si possano in qualche modo riferire alla sinistra. E questo è il motivo per cui non ci sono state nemmeno degli approcci per fare eventuali coalizioni anche in fase di costruzione delle liste. Perché non sono partiti da noi, ma nemmeno dal candidato di centro-sinistra, sono partiti approcci tesi a dare uno sbocco a eventuali accordi. Non c'è stata nemmeno la domanda, la richiesta, la proposta, niente, né da parte nostra né da parte del candidato del centro-sinistra. Le ripeto, a mio parere e anche degli altri della lista, quando se ne parlava, si dava per scontato che non c'erano le condizioni. Perché è chiaro che se io parlo di pubblico e uno mi risponde privato, se io parlo di servizi sociali e uno mi risponde sicurezza, se io parlo di sanità come diritto e uno mi dice che le cliniche private funzionano meglio, se io parlo di accoglienza, di immigrazione e uno mi dice che bisogna rafforzare qualche nave che va a salvare i barconi, ma giusto per salvare le vite umane, non per realizzare una società di uguali dove ci sia possibilità di circolare. E se uno come noi parliamo di pace perché i problemi, soprattutto quelli dei migranti, arrivano dalle armi che noi esportiamo e dalla guerra che noi esportiamo, a partire dal livello locale, arrivare al livello nazionale, al livello europeo, l'austerity Italia e una roba e l'altra, non c'è nessun livello in cui ci sia un dialogo con possibilità di apertura. E siccome noi apparteniamo a quell'area della sinistra che anche a livello nazionale ha il progetto di ricostruire, ricucire, la sinistra di alternativa, alternativa si intende alternativa al PD, è chiaro che non è che ci possano trovare tanti modi per fare magari qualche piccolo comune, qualche accordo. È chiarissimo. Per concludere le chiedo di fare un po' di autocritica. È soddisfatta di come è andata? No, certamente non sono soddisfatta di come è andata. Noi, pur non facendoci grandi illusioni sulla possibilità di eleggere un consigliere, comunque avremmo sperato, puntato su un risultato dignitoso, noi ci dicevamo dignitoso, e poteva essere quello di mantenere almeno i voti delle europee, insomma 590 voti, poi qualcuno sperava anche qualcosa di più, perché poi per eleggere il consigliere ce ne sarebbero voluti veramente tanti di più. Però, insomma, noi volevamo mantenere l'idea che il percorso era compreso dagli elettori di Voghera e che si andava a forzamento del risultato che consideriamo proprio minimo, che era quello delle europee. In realtà siamo stati capaci di ridimezzare ancora quel risultato. Diciamo che non siamo stati in grado di presentare, cioè noi dobbiamo diventare capaci, perché non lo siamo, e negli ultimi anni purtroppo l'abbiamo dimostrato, non siamo capaci di trovare i contenuti, i progetti e le forme, il dialogo e le forme di comunicazione che raggiungano l'elettorato. Noi non siamo proprio, abbiamo un difetto ed è quello che dobbiamo indagare e dobbiamo sforzarci di superare. Io sono convinta che la nostra analisi, gli strumenti che usiamo di valutazione siano giusti e corretti, solo che non siamo capaci di trasformarli in un progetto che sia ricettibile dalla cultura più attuale, insomma quella che c'è nel nostro litorato, anche nel nostro litorato.